Oggi non è più possibile chiudere gli occhi e arroccarci dietro modelli culturali che mostrano la corda davanti all'imporsi, seppure con difficoltà, delle nuove connessioni logiche innescate dalle leggi della meccanica quantistica. Fino a pochi anni or sono, era opinione comune che il concetto di materia ed energia fosse la base per la comprensione di tutti i fenomeni. Il tutto trovava la sua massima espressione nella famosa formula di Einstein, E uguale mc al quadrato. Questi termini, per quanto diano un fattivo contributo per costruire locomotive, computer sempre più sofisticati e anche bombe atomiche, non valgono per la comprensione di noi stessi come esseri umani del rapporto mente-corpo-anima. I processi psicofisici non sono oggetti, sono fenomeni dinamici e avvengono in un sistema aperto, non isolabile, quindi si adattano meglio al concetto di informazioni che non a quello di materia ed energia. Il modello della scienza appartiene al dogma scientifico tuttora imperante di una visione meccanica e deterministica fondata sulla fisica newtoniana. Tuttavia, non possiamo negare che il concetto di informazione vada oggi ad aggiungersi a materia ed energia come denominatore comune per la comprensione di tutte le forme di vita biologica e persino dei processi psicofisici di natura umana. Le informazioni rappresentano il ponte che unisce mente e materia, psiche e soma. Nel rapporto fra sistema immunitario, endocrino e nervoso, la ragion d'essere dell'intero sistema è l'elaborazione delle informazioni. Non solo, nella rete psicosomatica che rappresenta corpo e mente, neurotrasmettitori e recettori delle cellule sono stati definiti sostanze informazionali, nel senso che le informazioni stesse, sotto forma di basi biochimiche delle emozioni, controllano tutti i sistemi del nostro corpo. Sono informazioni che trascendono il tempo e lo spazio, collocandosi oltre i limiti angusti della materia e dell'energia. Per esempio, la relazione fra te e una coppa di champagne è la stessa sia a Roma sia a Formentera, sia se la bevi oggi, sia che la beva domani. L'antropologo americano Gregory Bateson ha definito le informazioni la differenza che fa la differenza. Noi tutti percepiamo il mondo osservando le differenze nei vari campi sensoriali, per esempio le variazioni di sapore, consistenza, colore, eccetera, ma anche dal punto di vista psicologico cognitivo. Per esempio, per Carlo, la parola cinema significa industria cinematografica, produzione di film, regia e post-produzione. Per Valentina, soltanto il cinema dell'isolato all'angolo, dove ha visto un film che l'ha particolarmente emozionata, mentre per Matteo è la collezione di DVD in suo possesso. La differenza che fa la differenza, dunque, è la differenza per l'osservatore. Questo è un concetto molto importante nella teoria dell'informazione, perché l'inclusione dell'osservatore nell'equazione ammette nel sistema un nuovo livello di intelligenza. Nella vecchia concezione si ignorava l'osservatore allo scopo di evitare ogni sospetto di interferenza soggettiva nella determinazione della realtà. Nel nuovo concetto quantistico, invece, l'osservatore svolge un ruolo importante nel definire la realtà, perché è la sua partecipazione che fa la differenza. A mio avviso, le informazioni non cambiano col tempo e con lo spazio. La differenza fra me e un piatto di spaghetti resta la stessa sia che mi trovi qui, sia che mi trovi a Bali. Le informazioni non dipendono dal tempo e dallo spazio, come la materia o l'energia, esistono indipendentemente da questi limiti. La teoria dell'informazione sembra convergere con la filosofia orientale, per suggerire che la mente, la coscienza, consistente in informazioni, preesiste al mondo fisico, che è secondario, una mera rappresentazione esterna della coscienza. Sempre secondo Bateson, il morso più grande alla mela del sapere dai tempi di Platone è stata la scoperta del feedback. L'idea del feedback deriva dalla cibernetica, lo studio scientifico dei processi di controllo nei vari sistemi. La parola ciber deriva dal greco kybernetes, che indica colui che pilota, ovvero il timoniere di una nave. Ora il timoniere governa la nave regolando di continuo la barra del timone in risposta alle informazioni, ovvero al feedback che riceve grazie alla vista o mediante strumenti. Lo stesso principio, sostiene un'altra ricercatrice, Candace Perth, vale per la rete psicosomatica, che è analoga a una regata, in quanto effetto di una serie di circuiti di feedback. Le cellule non fanno che inviare segnali alle altre mediante il rilascio di neuropeptidi che legano con i recettori. Le cellule che li ricevono, come il timoniere, rispondono con alcune modificazioni fisiologiche. Questi cambiamenti a loro volta ritrasmettono informazioni alle cellule che producono peptidi, indicando quanto ne devono produrre in più o in meno. È così che tanto il corpo quanto la barca possono procedere, grazie a una serie di scambi di feedback. Un sistema è sano quando questi scambi sono rapidi e non incontrano ostacoli, sia che avvengono tra peptidi e recettori, sia fra il comandante e il timoniere. Le informazioni. Ecco la tessera mancante che ci consente di superare la scissione fra corpo e mente della concezione cartesiana, perché le informazioni, per definizione, non appartengono né al corpo né alla mente, anche se riguardano entrambi. Dobbiamo accettare il fatto che occupano un ambito del tutto nuovo che la scienza deve ancora esplorare. La teoria dell'informazione ci consente di sfuggire alla trappola del riduzionismo e ai suoi dogmi, positivismo, determinismo, oggettività. Anche se questi concetti base della scienza occidentale ci sono stati impressi nella coscienza fin dal 500 e 600, la teoria delle informazioni costituisce un linguaggio ricco di relazione, cooperazione, interdipendenza e sinergia. Un linguaggio così nuovo da aiutarci a uscire dai vecchi schemi di pensiero. Ora possiamo davvero cominciare a concettualizzare un nuovo modello dell'universo e del posto che vi occupiamo. È iniziato davvero un nuovo rinascimento del pensiero.